Buongiorno, si è appena concluso l'incontro regionale per relativo al piano vaccinale per la scuola lombarda. Abbiamo come federazione Gilda Unons, abbiamo richiesto di incontrare gli assessori, in modo particolare l'assessore Sala e Letizia Moratti, e oggi pomeriggio siamo stati appunto convocati dalla regione Lombardia attraverso l'assessore Sala, l'assessore alla UEFA per il discorso del piano vaccinale regionale. Le persone da vaccinare nell'ambito scolastico delle scuole statali sono circa 200.000 persone e che inizierà a essere vaccinato dall'8 marzo, quindi al prossimo 8 marzo. Da domani, attraverso il sistema di registrazione del Sidi, si potrà per notare la vaccinazione. Non conta i primi o gli ultimi, ma verranno poi chiamati come appartenenza territoriale agli ATS della nostra regione Lombardia e arriverà un SMS per tutti coloro che sono registrati per indicare giorno e ora e dove verrà fatta la somministrazione del vaccino. Il vaccino utilizzato sarà AstraZeneca e ci sarà la chiamata a random perché è stata vista che è quella che da un punto di vista dell'opportunità e soprattutto della velocità è quella che maggiormente funziona e quindi queste cose ricordo che appunto verranno prese in considerazione. Quando si andrà a registrarsi verranno chiesti due dati, il codice fiscale che riguarda appunto la nostra, che riguarda ognuno di noi e dall'altra parte verrà messa la via di residenza o meglio ancora, visto che la popolazione scolastica della nostra regione ha un 40-50% proveniente da altre regioni, è opportuno mettere la provenienza della scuola, quindi la via della scuola, perché la chiamata random comunque sarà chiamata random dell'intera scuola nella maggior parte dei casi. Coloro che non dovessero trovare il proprio codice fiscale, quindi non risulterebbe, c'è un numero verde a cui fare riferimento per risolvere le problematiche relative alla propria persona. Un'altra cosa di cui oggi si è parlato, si è detto un po' l'incidenza per quanto riguarda le varianti e le classi coinvolte, si è visto appunto un incremento di incidenza tra i 0 e i 18 anni, meno tra i 0 e i 2, molto più tra tutte le altre fino arrivare ai 14-18. Ci sono all'interno delle scuole, ci saranno controlli sempre più stringenti e verrà emanata una nuova nota con le nuove regole di quarantena, quindi usciranno proprio nei prossimi giorni, sarà garantito da parte di tutti i dirigenti, coloro che devono andare a effettuare il vaccino, come dire la possibilità di effettuarlo con un permesso o qualcosa che possa prevedere appunto la possibilità di andare tranquillamente a vaccinarsi. Dicevo l'incidenza poi delle varianti, abbiamo quell'inglese che ormai ha raggiunto il 60% e nella regione è presente anche quella brasiliana e sudafricana e già in un caso quella nigeriana che ancora la stanno sequenziando e stanno cercando di capire quali sono le incidenze di questo tipo di variante. La notizia è che la variante inglese sta prendendo la supremazia su tutte le altre, è negativa da un punto di vista dei contagi, ma positiva perché risponde molto bene al discorso dei vaccini. Un'ultima cosa che riguarda il vaccino AstraZeneca che sarà quello utilizzato fino ai 65 anni e coloro che sanno oltre i 65 anni che una piccola parte della popolazione scolastica sarà utilizzato il vaccino o Pfizer o Moderna, decideranno appunto poi i tecnici. E dicevo questa incidenza è un fatto comunque positivo e AstraZeneca dal punto di vista proprio tecnico garantisce un 35% di copertura nella prima dose, la quale questa copertura nel 99,9% dei casi dà sì uno sviluppo della malattia ma uno sviluppo che è come dire curabile dalla propria abitazione e quindi non ha grandi come dire situazioni di pericolo per la vita delle persone. Con il secondo richiamo, ormai è un dato OMS mondiale, raggiunge un 85% di non sviluppo di nessun tipo di malattia e quindi è ciò che in questo momento non è il meglio ma sicuramente quello che possiamo offrire, che offre, non io ma che offre appunto lo Stato e in questo momento tutti i suoi cittadini. Io mi faccio anche portavoce di un'istanza, quello di vaccinarsi tutti perché diventa non solo un come dire un fattore personale ma anche un fattore di responsabilità sociale da parte di tutti noi e sarebbe un bel esempio che la scuola insegnasse al diare di tutte le polemiche che ci possono essere che la vaccinazione è un fattore fondamentale per tutti in questa situazione che è data. Grazie e buona serata.